Antica filosofia orientale dice non tutti i supereroi hanno stessi poteri Supercali fragilisti che mega alitosi Ma tutti i supereroi fanno colpo su ragazzi Ciao bellezza Ah, pensavo che fosse lo stoccafisso ad appestare l'aria Ancora? Ma ho appena fatto i gargarismi Prendi una mentina Anzi, prendile tutte American Dragon Jake Long Una ventata d'aria nuova tra i supereroi Alito di dragone Dal lunedì al venerdì alle 18 E sabato e domenica alle 19 American Dragon Jake Long Solo a Disney Channel